Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV l'informazione locale Trage di Corinaldo, i sei imputati entrano in launa questa mattina con la mascherina Con il coronavirus scuole chiuse ma si studia ugualmente attraverso la didattica a distanza Noi siamo andati a vedere l'esperienza del Polo 3 di Fanno Va per boschi, mountain bike e rischia di finire all'ospedale La brutta disavventura di un ciclista fanese La guardia costiera di Pesaro sequestra uno scarico abusivo di liquami industriali lungo il fiume Foglia Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia Partiamo con l'aggiornamento sul coronavirus Il dato significativo della giornata di oggi è che fortunatamente non si registrano decessi nelle marche A salire però inesorabilmente il numero dei tamponi positivi Il Gores ha annunciato questa mattina che sono 124 i tamponi risultati positivi al coronavirus nelle marche Su un totale di 413 effettuati I poi casi positivi nella provincia di Pesaro e Urbino sono 100 E nella provincia di Ancona 19 In quella di Macerata 2 E nella provincia di Fermo sono 3 Le persone invece ricoverate in terapia intensiva Sono salite a 19 5 a Pesaro 7 a Fano 2 a Torrette E una a Fermo e a Urbino Civitanova Marche e San Benedetto 61 pazienti sono invece ricoverati in reparti di malattie infettive o altri reparti ospedalieri Poi le persone in isolamento domiciliare sono salite a 704 Di cui 643 però al momento sono asintomatici 61 invece presentano sintomatologia Ma di questi 116 sono operatori sanitari Ed è proprio su questo dato di 116 operatori sanitari Che punta il dito il consigliere regionale Mirko Carloni Che dice forse la prima parte dell'emergenza non è stata gestita bene Sentiamo le sue parole Soprattutto il dato che ci lascia un po' perplessi Ci fa riflettere che la prima fase non è stata gestita nel migliore dei modi E che ci sono 116 persone tra medici e infermieri che sono in isolamento Quindi in qualche modo vuol dire che il primo momento c'è stato un contagio involontario Da parte del personale sanitario che poteva essere evitato Se in qualche modo negli ospedali tutte quelle patologie che potevano rientrare Nella fattispecie del coronavirus venivano gestite diversamente E quindi questo è un dato che non depone a favore del nostro sistema sanitario Che però va ringraziato perché c'è da dire che il personale medico In questo momento e anche quello paramedico Sta facendo uno sforzo per la tutela di tutti noi veramente importante Ci sono delle misure straordinarie anche per il controllo delle persone che devono stare a casa In questo momento l'unica cosa che si può fare per evitare il propagarsi del contagio Quindi per il contenimento è fare in modo che chi deve stare nel proprio domicilio ci stia E anche questo è stato oggetto della discussione Così come le misure che l'economia si aspetta da noi Abbiamo una situazione che sta diventando molto pesante Le associazioni di categoria ci chiedono di fare degli strumenti Inventarci degli strumenti per gestire questa emergenza Che immediatamente dopo quella sanitaria diventerà economica Come probabilmente non abbiamo mai vissuto in questa e forse anche nella precedente generazione Proprio questa mattina ho sentito un istituto di ricerca economica Che mi diceva che nel secondo trimestre del 2020 i dati economici saranno disastrosi Per tutta Italia ma in modo particolare per le zone che sono state colpite maggiormente Come la nostra Quindi dobbiamo fare in modo che ci siano strumenti di cassa integrazione straordinaria Per le persone, per le imprese, le micro imprese Non solo per le grandi imprese perché il nostro è un territorio di micro impresa Quindi anche l'imprenditore è un lavoratore Quindi ci rischia che in questo momento venga messo in ginocchio il nostro sistema economico Si parla di un 2020 che chiuderà con un prodotto in tonno lordo a meno 100 miliardi E con un PIL a meno 5 punti Quindi qualcosa di mai visto nella nostra storia Dal quale dobbiamo far fronte immediatamente con degli strumenti che sospendano alcune imposte Le cartelle esattoriali, le tributi locali E sostengano davvero l'economia in una fase che sarà drammatica Ma arrivano anche le belle notizie sul fronte coronavirus Non solo i dati dello sviluppo del contagio Perché il bambino di Vallefoglia che ha contratto il coronavirus sta bene E questa appunto la bella notizia che si apprende dalla pagina SOS Vallefoglia Lo scrive l'amministratore del gruppo Carla Nicolini Che dice ormai tutti sappiamo che un bimbo di Vallefoglia è risultato positivo al coronavirus La famiglia mi ha chiesto di condividere con voi questo pensiero per tranquillizzarvi Ringraziamo tutte le persone che in questo momento gli sono vicini Al momento non sono in isolamento Il bambino è asintomatico quindi sta bene E chiedono a tutti di rimanere tranquilli e di non allarmarsi Stanno facendo la vita di tutti i giorni Con la differenza che stanno dentro la loro casa La mamma che ha anche espresso il desiderio di non vedere scritte queste belle parole Di vedere scritte queste belle parole appunto Preghiere e non pettegolezzi Bene dopo questa rassicurante notizia Parliamo del Presidente Ceriscioli Che scrive al Presidente del Consiglio Conte Mentre affrontiamo insieme l'emergenza coronavirus Chiedo di non dimenticare il dramma del sisma Solo un suo intervento può cambiare il corso della ricostruzione Il Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli Ha inviato oggi una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte Per evidenziare le problematiche legate alla ricostruzione post-sisma E la necessità di misure straordinarie L'emergenza, dice il Presidente Ceriscioli nazionale per il coronavirus Nelle Marche è un'ulteriore tragedia Che si aggiunge a quella che viviamo da oltre tre anni Il sisma che ha colpito un terzo della nostra Regione nel 2016 La svolta, continua Ceriscioli, ancora non c'è stata Siamo rimasti ripetutamente inascoltati Accusati ingiustamente di immobilismo E allora, mentre affrontiamo insieme l'emergenza sanitaria del coronavirus Io le chiedo di non dimenticare il sisma con oltre 50 vittime E più di 30.000 sfollati I danni a persone, cose, beni, imprese e servizi Una catastrofe di grandi proporzioni Questi sono alcuni passi della lettera al Premier Conte Da parte di Ceriscioli Bene, lo sappiamo tutti Scuole chiuse, studenti a casa Ma c'è chi si sta attrezzando per l'apprendimento a distanza Per continuare il contatto con gli studenti Pur dovendo restare lontani dalle aule di scuola Ora noi siamo andati a vedere come avviene questa modalità molto nuova Siamo andati nell'Istituto Olivetti del Polo 3 Guardate Con il decreto del Governo che ha congelato le attività didattiche Fino al 15 marzo In molti istituti i docenti assieme agli alunni Si sono organizzati per le lezioni a distanza Strutturandosi in vari modi Anche negli istituti fanesi E si è stata avviata questa metodica come al Polo 3 Da tempo all'avanguardia su questo fronte Ma ci tengo a dire che il corpo docente in generale non è impreparato Certo siamo tutti impreparati ad una situazione di emergenza È chiaro Però l'utilizzo, le competenze ci sono E in alcuni casi sono elevatissime Non solo qui al Polo Che per tradizione ormai da tantissimi anni Aveva attivato la piattaforma G Suite Il Classroom e quant'altro Ma in generale direi nella scuola Poi chiaramente le scuole di ordine superiore Siamo più avvantaggiati Perché dialoghiamo direttamente con i ragazzi Nelle scuole del primo grado Tutto questo deve passare magari attraverso le famiglie Però diciamo che può essere un modo per gestire un'emergenza La quale nessuno aveva mai pensato Studenti da una parte Alunni anche attraverso il proprio telefonino Comodamente nella stanza di casa Interagiscono con i docenti Che o in istituto o anche a casa propria Realizzano lezioni collettive Dal 2016 in maniera continua La scuola, tutto il Polo 3 Usufruisce di una suite di Google Che permette di poter fornire ad ogni docente Ad ogni personale ATA Quindi tecnici, collaboratori scolastici eccetera E tutti gli allunni di avere un account Polo3.org appunto Quindi diciamo che ci siamo trovati Non male in questa situazione Perché? Perché abbiamo utilizzato il discorso Delle aule virtuali Cioè della possibilità di studiare Di impartire lezioni a distanza E quindi i compiti eccetera Non solo con il registro elettronico Come avviene in tutte le scuole d'Italia Ma anche appunto con il discorso dell'aula virtuale Che permette una grande Un grande ventaglio di possibilità Di condivisione Di poter seguire in maniera puntuale Anche fuori dagli orari scolastici Antimeridiani Tutti gli allunni A seconda delle loro esigenze Bene, archiviamo la tematica coronavirus E apriamo la pagina della cronaca Perché la Guardia Costiera di Pesaro Ha sequestrato uno scarico abusivo Lungo il fiume Foglia Di liquiami industriali Provedienti da un'azienda Di Monte Labate Continua quindi L'impegno della Guardia Costiera Nel presidio e nel rispetto Dell'ambiente e del territorio Vediamo tutto nel servizio Di Francesco Salvago L'attività di polizia ambientale Della Guardia Costiera di Pesaro Nel territorio provinciale di competenza Con il coordinamento Dell'autorità giudiziaria Ha svolto un monitoraggio Della qualità delle acque marine Superficiali Concentrandosi negli ultimi giorni Sulla verifica degli scarichi Di qualsiasi natura Che vengono immessi nel fiume Foglia A quale maggiore tratto Destinato alla raccolta Delle acque provenienti Dalla provincia di Pesaro Urbino L'indagine è avvenuta Attraverso l'ausilio Di un elicottero Del terzo nucleo aereo Della Guardia Costiera I cui esiti hanno permesso Di individuare numerose condotte Lungo gli argini Ed hanno conseguentemente Spinto ad effettuare Programmare adeguate verifiche Sia sotto il profilo autorizzativo Che nella natura Dei deflussi immessi Durante l'attività di monitoraggio Sono state ispezionate Alcune aziende ubicate In prossimità del fiume Foglia In particolare Il personale del nucleo operativo Di polizia ambientale Guidati dal comando Del capitano di fregata Maurizio Tipaldi Ha accertato l'esistenza Di uno scarico abusivo Di liquami industriali Presso un'azienda Posizionata nel comune Di Monte Labate Il cui ciclo produttivo Riguarda la realizzazione Di componenti per l'arredamento I militari insospettiti Dalla presenza Di alcuni pozzetti Di ispezione Posizionati in prossimità Del sistema di riciclo Delle acque di lavorazione Hanno infatti scoperto Che gli stessi Erano utilizzati abusivamente Per lo sversamento Di residui di colla industriale Lo scarico della colla È stato immediatamente interrotto E posto sotto sequestro penale Il titolare della ditta È stato denunciato All'autorità giudiziaria Per la violazione Del testo unico Sull'ambiente Sul caso Sono stati chiamati Anche altri enti preposti Per effettuare Gli ulteriori accertamenti Di competenza L'attività di monitoraggio Ha interessato Un'area fortemente sensibile Poste in prossimità Del fiume Foglia Dove i controlli Di polizia marittima Proseguiranno Anche nelle prossime settimane A tutela dell'ambiente I carabinieri I carabinieri della compagnia di Urbino Hanno denunciato per furto In abitazione Un sessantenne Con numerosi e specifici Precedenti di polizia L'episodio risale Alla mattina dello scorso 24 febbraio Quando una donna Ha chiesto aiuto I carabinieri della stazione Di Acqualagna Per furto All'interno della propria abitazione Del suo portafoglio Contenente Poche centinaia di euro La donna ha riferito Che un signore Di circa 60 anni Si era presentato Alla porta di casa Con l'intento Di venderle delle stampe Con immagini religiose Immediate le ricerche Dei carabinieri Che grazie alle prime Descrizioni della donna Hanno permesso ai militari Di rintracciare E identificare L'autore del furto Il quale stava ancora Aggirandosi Per Acqualagna Con fare sospetto Nella zona centrale Probabilmente proprio La ricerca di altri obiettivi Parliamo della tragedia Della lanterna azzurra Di Corinaldo Perché questa mattina Presso il Tribunale di Ancona Si è tenuta L'udienza Appunto Sulla tragedia Che si è verificata A Corinaldo Una particolarità È quella Che i sei imputati Della Bergamasca Sono arrivati Tutti con la mascherina L'emergenza coronavirus Non ha fermato L'udienza Della banda Dello spray Accusata Della strage Della discoteca Lanterna azzurra Di Corinaldo In cui morirono Sei persone Schiacciate dalla calca Nella notte Tra il 7 E l'8 dicembre Del 2018 I sei componenti Del gruppo Della bassa modenese Sono arrivati In tribunale Scordati Dalla polizia penitenziaria Tutti Indossavano mascherine E hanno partecipato All'udienza In cui si procede Con il rito abbreviato La procura di Ancona Aveva chiesto Il giudizio immediato L'udienza Davanti al gruppo Paola Moscaroli Si è conclusa In un'ora Con la presentazione Delle costituzioni Di parti civili Circa 70 Tra queste Anche quella Della società Di gestione Della discoteca La Magica SRL La Onlus Insieme a Marianna Il comune di Corinaldo Il garante regionale Dei diritti Nessun parente Delle vittime Era presente Ad eccezione Del fratello Di Benedetta Vitali Omicidio Preterintenzionale Associazione per delinquere Lesioni personali E singoli episodi Di rapine e furti Con strappo I reati Di cui sono accusati Ugo Di Porto Andrea Cavallari Moetz Acari E Raffaele Mormone Sudaib Abbada E Badir Airmuia Di età comprese Tra i 20 e i 23 anni Per l'accusa I sei ragazzi Facevano parte Di un sodalizio Consolidato Che ha messo a segno Un centinaio di colpi In varie parti D'Italia Con il medesimo Modus operanti Messo in atto Anche la discoteca Di Corinaldo Spruzzi di sostanza Orticante Per approfittare Della situazione Per sfilare Catenini E altri Monili I loro avvocati Hanno già annunciato Che non faranno Osservazioni Sulle costituzioni Di parti civili Che riguardano I feriti E le persone Decedute Il gruppo Valuterà Le ammissioni O meno Delle costituzioni Di parti civili Presentate Per eventuali eccezioni Fissato Tutto il calendario Di udienza Durante la quale Verranno discussi Gli abbreviati Queste le prossime date 2-16 aprile 7-28 maggio 11-25 giugno Del 2020 Bene L'azienda ospedaliera Marche Nord In adempimento Alle disposizioni Ministeriali Prosegue con La sua revisione Dei percorsi Di accesso Alle strutture ospedaliere Per ridurre Al massimo Gli affollamenti Ma continuando A garantire I servizi Attraverso L'attivazione Di nuove modalità Di prenotazione Appunto Delle prestazioni Da oggi Quindi giovedì 5 marzo 2020 Al fine appunto Di Evitare situazioni Di congestione Promiscuità Che possono Portare alla diffusione Di malattie Gli sportelli Per le prenotazioni Sia del presidio Di Pesaro Di Piazzale Cinelli Che del presidio Di Fano Di Via Vittorio Veneno Resteranno Chiusi Per le prenotazioni Delle visite Urgenti O indeferibili Marche Nord Ha attivato Due numeri Di telefono Lo 0721 362604 E lo 0721 882633 Due linee attive Dal lunedì Al sabato Dalle 8 Alle 14 Anche gli sportelli Delle segreterie Per le prenotazioni Di tacche Risonanze Resteranno Chiusi È possibile Però Prenotare Esclusivamente Visite Urgenti O indeferibili Chiamando il numero Appunto 0721 88 24 92 Dalle 8 Alle 17 30 Dal lunedì Al venerdì Bene Ed ora Vi parliamo Della vicenda Che poteva sicuramente Andare peggio La disavventura Possiamo dire Di un ciclista Che Anziché passare Qualche ora All'aperto Praticando il suo sport Preferito Ha dovuto Combattere Contro Infortunio Non causale Sentite Che cosa è successo? Ha rischiato grosso Il ciclista Che venendo giù Da un sentiero In un boschetto A ridosso Di Novilara Si è trovato davanti Una bella tavola Chiodata Messa di traverso E che non ha potuto In nessun modo Evitare Mi trovo esattamente Nel punto In cui è stata lasciata La tavola chiodata Il rider Veniva giù Da questo sentiero Siamo a 50 metri Dalla chiesa Di Novilara Per Inerpicarsi Su questa macchia Questo bosco La tavola era qui Di traverso Non ha potuto far altro Che passarci sopra Con le conseguenze Poi di una caduta Qualche scoriazione Alle quali ormai Il ciclista di mountain bike È abituato In anni di ciclismo E tante gare Un po' di spavento Una gomma a terra E la scocciatura Di una uscita rovinata Nulla di più Fortunatamente Ma ciò che fa male E brucia Non sono certo I graffi sulle ginocchia Ma vedere E constatare A quanto riescono Ad arrivare alcune persone Senza pensare minimamente Alle conseguenze Delle proprie azioni Il ciclista Un padre di famiglia Due figli Una vita spesa Ad insegnare ai ragazzi Il piacere di andare Su due ruote In mezzo alla natura Rispettosi dell'ambiente Avrebbe però Potuto farsi male E seriamente Come anche I frequentatori Del sentiero Spesso anche ragazzi Adolescenti Tutti amanti Dello sport È questo Che fa più male Constatare Che questo gesto È stato un vile Deliberato attacco Con la ferma volontà Di far male Non è la prima volta Anche forse Non sarà nemmeno L'ultima Che i bikers Che viaggiano Per boschi Sono presi di mira Per qualche nascosta E recondita ragione Da chi reputa Certi luoghi Una proprietà privata Invalicabile Ma la natura È di tutti Anche di chi Nel rispetto delle regole La frequenta E la rispetta Come fanno appunto I ciclisti off road Chiaro il messaggio Del ciclista Che vuole mandare A tutti Protagonista Della disavventura Prestate attenzione Perché purtroppo La stupidità umana È sempre in agguato Bene Speriamo veramente Di non raccontarvi Altre di questi episodi Perché veramente Alle volte Potrebbe Non finire Benissimo E forse Alle volte Anche non Poterla raccontare Come invece È avvenuto Fortunatamente Allora Vi ricordo che Lunedì 9 marzo Alle 21 In diretta Proprio qui Da Fano TV C'è l'appuntamento Con Primo Cittadino E i sindaci del territorio Ospite Di questa puntata È Il sindaco Di Colli Al Metauro Stefano Aguzzi Per intervenire In diretta Come sempre Rivolgere Domande Al Primo Cittadino Potete comporre Il numero 0721 861433 Per intervenire Anche in diretta Durante la trasmissione Se volete invece Rivolgergli Una domanda O un quesito Potete anche farlo Attraverso Un messaggio Un sms Oppure Utilizzando Whatsapp Con il numero 338 4968 250 Bene Siamo arrivati in fondo A questa edizione Di Occhio alla Notizia Grazie per essere stati In nostra compagnia E aver scelto Anche la nostra Informazione Che tornerà Domani mattina Puntualmente Alle ore 7 Con Occhio ai giornali Il numero Sempre attivo Per entrare in contatto Con la nostra redazione Lo dovreste ormai Conoscere a memoria Non mi rimane altro Che augurarvi Buona serata A tutti voi Arrivederci Grazie a tutti